Nella vita si può raggiungere qualunque risultato. Basta crederci e lavorare duro per riuscirci. Franco Baresi è diventato così il grandissimo campione che tutti conosciamo. E quando un campione ha sete, ha sete di Ghetto. Il dissetante sportivo crida al corpo il giusto equilibrio idrosalino. Ghetto vince la sete e riparte di slancio. Ghetto